Alice Rasni, coordinatore terapia intensiva ospedale Maurizio Bufalini Cesena. L'esperienza durante il periodo Covid mi ha lasciato un particolare ricordo che è rivolto soprattutto ai cittadini, alla loro solidarietà che hanno dimostrato in questo periodo, al fatto che ogni giorno ci dimostravano attraverso gesti, pensieri e donazioni la riconoscenza nei nostri confronti in questo periodo così difficile di lavoro durante questo periodo. In reanimazione tutti correvamo contro il tempo, correvamo per dare ossigeno ai pazienti, per riuscire a curarli nel migliore dei modi. D'altro canto da noi arrivava l'ossigeno attraverso tutti i gesti di solidarietà dimostrati dai cittadini. È importante continuare questa solidarietà in quanto il periodo Covid è stato sicuramente un esempio importante per tutti, ma tutti i giorni abbiamo bisogno della solidarietà che ci dimostrano. La responsabilità che ognuno di noi dimostra nei confronti del prossimo può essere un gesto quotidiano che nel tempo favorisce e ci fa superare questo periodo così difficile.